1-1, trovato il gol di testa con Emma Uso è entrato dalla panchina e ha infilato il crotone, l'ex attaccante del campo basso si è tolto la maglia verrà ammonito ma poco conta nell'economia di Michele Emma Uso contento così 1-1 è riuscito a sfuggire alla marcatura il numero 7 trovando il primo gol della sua stagione facendosi anche perdonare dal pubblico del Viviani aveva sbagliato un rigore qui ammonito nel frattempo anche Volpe è entrato dalla panchina a risultare, si è preso il giallo, se lo prende anche